Siamo sul luogo dove ieri sera sono stati trovati i corpi delle vittime di quello che pare essere un omicidio suicidio. Ci troviamo al confine tra il territorio del Comune d'Italia e del Val d'Arno Aretino. Proprio alle nostre spalle giacevano i cadaveri di una 49enne originaria di Pisa e del compagno di origine bulgara. I due avevano trascorso alcuni giorni di vacanza al borro, poi se ne sono andati, probabilmente pare senza pagare, hanno raggiunto questa radura nei boschi casentinesi e qui è avvenuto il tragico epilogo della vicenda. Stanno indagando i carabinieri, stamani erano presenti sul luogo anche gli uomini della forestale, e la scientifica hanno effettuato i primi rilievi, al momento è stato trovato un bossolo. Le indagini proseguono.